Ciao a tutti ragazzi, mi sono i Cosigames, qui Kikko e Kekko, vedrete solo Kikko perché io sono dalla mia stanza a giocare e sono Kekko, quello di fronte a Kikko, vi vedete? Ok, se me l'avete visto, buon per voi, oggi siamo su Arena, oggi siamo sulle Skywars con GoldenG99 che adesso ha cambiato totalmente nome, si chiama JerryMine, anche se ora se li vado incontro vedrete che si chiama Koo, Mettete i disegni al loro canale, mi ragazzi, mi stanno scannando, mi stanno scannando, beh, che dite di iniziare? Io, 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 mi stanno scannando, ma va bene, Jerry manchi solo tu, muoviti, vai, 3, 2, 1, via, via! Siamo? Vai, vai, ci siamo, lavaran, siamo su, si, lavaran, si è già caduto, porca troppo, volete vedere il mio parkour, ragazzi? No, si è caduto! Ecco il mio parkour, non vedo un cavolo, e chi è? Vai, jump boost, tanto sapete che, tanto sapete che vincerò io, eh? Fai parkour dentro il vulcano! No, io non so fare parkour! Eh, fottiti! C'è una che si chiama, come quella, la, di Violetta, Demilovato? No! Ma è che a me la, a me è allaggato! Sono morto! Almeno sono arrivato alla fine, eh! Io sono ancora vivo! Ma io almeno sono arrivato alla fine! Oh, raga! Cazzo, ho rotto il cartello! No! AAAAAAAA! Coglione! Tanto vinco io! Tanto vinco io! Eh, vabbè, non sai fare parkour! Eh, vuoi vedere che qua lo faccio? Che reato? Oh! È megohones! Oh! Mettetevi nella... Eh! Mettetevi la ascia! Io me la so messa! Io me la so messa la ascia! Ma è migliore, la lascia! E' moglie! E' un po' di me! Dai, due, uno, via! Eh, io sono messa la ascia! Tocati in F5! Ehi, perché sto al contrario! È vero! Che deficiente! Sono al contrario! Ma che gira? Oh, ma stascia di cazzo non funziona! Che è morto! Sono ancora vivo! È morto! Che lo fate ancora vivo! Oh, sta violetta di cazzo! Ma tutti sono morti! Il capo non è anche un bel genio! e ragazzi quindi se il video vi è piaciuto come un saluto potete lasciarvi sotto un commento o un mi piace si vede cacca e vado a pagare da tutti vi rendete cazzo conto che come sono entrato sono morto si è arrabbiato chi? io sono giurato per più di tutti ma veramente hai stoppato ecco ma no non fai le cose, mi piaci? ah ma bu, sapete che sono arrivati più di voi? a vinto vittos a vinto vittos? ma non si può andare a registrare chicco, si? si si ah mi hai fatto prendere un colpo che ho detto nick? perchè stivi queste cose in chat? allora io ma adesso stiamo tutti insieme sta consumando l'ascia io, perchè? io ho un slender key allora vediamo chi sta ma dove? che coppia figa che siamo cioè io ho rotto l'ascia praticamente hai usato la killabras con me oh ma scendiamo tutta la pecore no prima che prendere eh eh con il destro però non devi tenere niente ma sei così innavo non riesco a prendere siamo a pagare la pecore no ma no si ma non è uscisa che bosse io sto a blu io sto fu sempre followed and friccando le pecore danrote e se ma chi sta qua? ehm a protester chi sta qui a protester? MIA NONNA! Ma venga, venite chi ha! Ma la mia nonna ci dice, ci stanno... NIC NIC! Ma adesso ci stanno scippando le pecore scritto lì Noi metto a scippare le pecore! Noi, io e che facciamo da guardia? CON DESTRO! CON DESTRO! CON DESTRO! CON DESTRO DEL MOUSE! Ehi, io sto muovendo, grazie al ca... CON DESTRO! Abbiamo perso, abbiamo perso malissimo! Abbiamo perso! Oh, dimmi lo va! Oh, blu! Attenti, blu! L'Orezzo è uscito! Ma andrei a prendere quella! Ma andrei a prendere quella! Ma andrei a prendere quella! NIC, bravo! Sto muovendo, amore! Oh, non trovo! Sto muovendo, amore! Cazzo, siamo arrivati terzi però, dai! Vedete, tu sono qui! Secondi! Ah, no, terzi, terzi! Ma no! Cazzo! Oh, però io ho fatto la guarda! Master of PvP! Mo' vi faccio vedere io! Ma io l'ho messo! Oh, ma è stato già uscito! Oh, scusami! Non l'ho fatta apposta! Ma l'ho ucciso! 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 E adesso no! Ma ma l'ho tardi quello che vorrei? Ma l'ho ucciso? Chi ha ucciso è? E mi lo vando! In mirto! Vieni qua! Mi lo vanno! Tan cancelled! Tanto mia bambi è ucciso! Non me lo colpisce! Elle guffave! Sta laggando male! Inbasso cazzo! Ho questo cazzo non hàng uguale… Che patente! Ma io che posto sto sottrattando? Non è sciamma! Noi sono morti Nick che posto sto? Non mi esce mai Oh scusa Nick Nick a che posto sono arrivato? Mettiamoci insieme squadra Rosso 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 Nick non ti sento? Io a che posto stavo? E' a vero E' io Cazzo Io secondo con 19 E' io E' io Ehi E' io Scusate Io non l'ho E' qualcosa è andato storto Che cosa? Laggava come la merda e ho dovuto chiudere Oh cazzo Dai il registro ti prendi da qua dai Lai entro e tanto ce l'hai No ho dovuto chiudere coso il server perché laggava troppo No sto registrando Oh ma l'esterno oggi è un creeper Che sto Oh Io venivo a andare Vabbè Io a questo gioco poco forte Sì ma non mi piace proprio ma A me cosa mi piace un casino No Non mi fa niente di caro No non ho registrato Non ho registrato Ma sta laggando Ma che a me si sono congelati tutti i giocatori No non ho registrato Dai non ho registrato Io non ho registrato Registriamo il prossimo Dai Oh cazzo mi sono uccidato Voi dove state scusa Non ho registrato Non ho registrato Ma porca di quella Ciao 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 Grazie a tutti